Cary Grant era un rinomato attore cinematografico e teatrale americano di origine inglese che ha offerto interpretazioni stellari nel corso della sua carriera. È sempre stato conosciuto come qualcuno che trasudava carisma, stile e sicurezza sia dentro che fuori dallo schermo. Sebbene abbia avuto una carriera di successo e si sia guadagnato una grande fama come attore, la sua vita personale è stata piena di controversie. Dopo aver smesso di recitare nei film è rimasto attivo nell'industria dell'intrattenimento. Successivamente è entrato a far parte dei consigli di amministrazione dell'Accademia delle Arti Magiche, Hollywood Park e Western Airlines. Era anche un appassionato di motori e possedeva diverse auto. Grant è nato il 18 gennaio 1904. È cresciuto a Bristol in Inghilterra come Archie Leach, figlio di uno stiratore di vestiti e di una casalinga. Suo padre, Elias, ha lasciato la famiglia per un lavoro a Southampton e lì si è messo con un'altra donna. La coppia ebbe presto un figlio. Quando aveva dieci anni a Grant fu detto che sua madre era morta mentre era stata ricoverata in un istituto da suo padre. Devastato dalla perdita, Grant era praticamente solo, con poco sostegno da parte di suo padre. A tredici anni ha iniziato a frequentare un teatro locale dove ha svolto alcuni lavoretti. Grant ha poi iniziato a lavorare con il gruppo di artisti itineranti di Bob Pender, ma il suo primo tentativo di carriera teatrale è stato interrotto da suo padre, che gli ha chiesto di tornare a scuola. Grant si fece espellere l'anno successivo e questa volta con il permesso di suo padre si unì alla troupe di Pender. Ha viaggiato con il gruppo per due anni, esibendosi in tutti i tipi di atti, dalla giocoleria ai pezzi comici alle acrobazie. Nel 1920 Grant si è ramificato da solo, lasciando la troupe durante la sua visita a New York City. Lì ha lottato per entrare nel mondo dello spettacolo, lavorando anche come trampoliere per un certo periodo. Alla fine degli anni venti, Grant aveva fatto diverse apparizioni a Broadway. Ha ottenuto la parte principale nel musical del 1931 Nicky con Fay Wray, interpretando un soldato di nome Carey che combatte per l'affetto di Wray. Sebbene la produzione si sia rivelata di breve durata, il ruolo di Grant gli è valso abbastanza elogi da ottenere un ruolo in un cortometraggio, Singapore Sue. Alla fine, provando un certo interesse per lo studio, Grant decise di trasferirsi a Los Angeles. Ha realizzato il suo primo lungometraggio, This is the Night, nel 1932, e presto sono seguiti altri ruoli sul grande schermo. Grant ha recitato al fianco di famose protagoniste come Marlene Dietrich e Mae West. Alla fine degli anni trenta, Grant era diventato un protagonista affermato a Hollywood. È apparso in una serie di film, dai drammi di guerra ai gialli alle commedie. La sua carriera, tuttavia, raggiunse nuove vette a partire dal 1937, con Topper. In questa commedia stravagante, Grant interpreta uno spirito sofisticato che, insieme alla sua defunta moglie, decide di perseguitare un vecchio amico. Aveva un dono sia per l'umorismo fisico che per il tempismo comico. Grant ha realizzato alcuni dei suoi più grandi film in questo periodo. Commedie come The Awful Truth, 1937, con Irene Dunn e The Philadelphia Story, con Katherine Hepburn e Jimmy Stewart. Sono diventati dei classici. In molti dei suoi ruoli, Grant ha interpretato un tipo simile, un uomo arguto e raffinato. Tuttavia, occasionalmente ha cercato di sfidare le aspettative del pubblico su di lui. Ha interpretato un marito potenzialmente letale al fianco di Joan Fontaine nel thriller del 1941 Suspicion, che ha assegnato il suo primo film con il regista e maestro della suspense, Alfred Hitchcock. In Penny Serenade, 1941, Grant ha bilanciato l'umorismo con il dolore, come marito che prova sia gioia che crepa cuore nel suo matrimonio. Il suo lavoro nel film gli è valso una nomination all'Oscar. Il suo più grande balzo drammatico fu in None But The Lonely Heart del 1944. Diretto e coscritto da Clifford Odets, il film vedeva Grant nei panni di un figlio al prodigo errante che torna a casa per aiutare la madre malata, Ittle Barrymore. Ha ottenuto la sua seconda nomination all'Oscar per questo film ormai quasi dimenticato. Secondo quanto riferito, era uno dei suoi preferiti personali, dicendo «la parte sembrava adattarsi alla mia natura meglio dei ragazzi spensierati che ero abituato a interpretare». Due dei ruoli successivi più memorabili di Grant lo hanno visto lavorare ancora una volta con Hitchcock. Ha interpretato un criminale riformato accusato di una rapina che non ha commesso in To Catch a Thief del 1955. Nel film, Grant ha recitato al fianco di Grace Kelly. Hitchcock ha poi messo alla prova Grant nel 1959, North by Northwest. Come un pubblicitario che viene coinvolto in omicidi e spionaggio, il suo personaggio è in fuga da forze sinistre e combatte per la sua vita per gran parte del film. Grant ha anche collaborato con Audrey Hepburn per il thriller umoristico e romantico del 1963 Sharada, che ha gentilmente preso in giro il genere. Per il suo ultimo film, Walk, Don't Run, 1966, è passato da protagonista romantico a sensuale maturo in questa commedia. Grant si è ritirato dal cinema dopo questo film. Grant ha ricevuto numerosi riconoscimenti per i suoi contributi al cinema nei suoi ultimi anni, tra cui uno speciale Academy Award nel 1970 per la sua maestria unica nell'arte della recitazione cinematografica. Nel 1981 ha ottenuto il prestigioso Kennedy Center Honor for Career Achievement in the Performing Arts insieme a grandi del calibro di Helen Hayes e Count Basie. Grant acconsentia un'apparizione pubblica speciale a Davenport, Iowa, 29 novembre 1986, ma quella sera non arrivò mai a teatro. Ha subito un ictus fatale nella sua camera ad albergo. Come aveva fatto nella vita, Grant ha continuato a cercare la privacy dopo la sua morte. Nessun funerale pubblico è stato tenuto per la grande star, ma molti che lo conoscevano hanno espresso il loro dolore per la sua scomparsa. Il presidente Ronald Reagan ha affermato che era una delle stelle più brillanti di Hollywood e la sua eleganza, arguzia e fascino dureranno nei film e nei nostri cuori. È stato sposato cinque volte e ha subito quattro divorzi. Molte delle sue ex mogli lo hanno descritto come controllante. La sua quarta moglie, l'attrice Diane Cannon, ha detto che ha cercato di dirle cosa indossare. Ha anche affermato di averla costretta a prendere l'LSD, una droga che ha preso lui stesso. In seguito ha spiegato che Grant ha preso l'LSD come una porta per la pace dentro di sé. Cannon ha scritto del loro matrimonio in Dear Carrie, My Life with Carrie Grant, del 2011. Sebbene le sue relazioni romantiche possano essere state travagliate, Grant era un padre attento. Ha avuto solo un figlio, una figlia di nome Jennifer, nata nel 1966 con sua moglie Diane Cannon. Grant divenne un genitore affettuoso e adorante. Dopo che lui e Cannon hanno divorziato, Grant ha trascorso più tempo possibile con sua figlia. Jennifer Grant ha raccontato al mondo com'era essere la figlia della leggenda dello schermo nel suo libro di memorie del 2011, Good Stuff, a reminiscence of my father, Carrie Grant.